Vai! Non si vede più! Ma io, ma io, ma io! Ma io, ma io! Ma io, ma io! Come? Ah, sì! Ah, sì! E' il punto cos'è che si è? Ah, non c'è una cucina con la cucina? Sì, no? Ecco, qui ci siamo! Perco Paradiso! Grazie! Oh! Ora posso! Ok! Giuliano, ci fai la spesa? Ci fai la spesa! Giuliano, c'è un'ora! Giuliano! Il momento è importante! Non c'è nessun audio in questo paradiso! Giuliano! Grazie! Grazie! Qualcuno deve andare all'aeroporto? Adesso si parla di questo! Adesso presto questo telefono! L'ho visto! Io però farei una cosa! Allora! Ok! Adesso facciamo! Adesso facciamo! Adesso facciamo! Adesso facciamo! Facciamo un'altra cosa! C'è un'altra cosa! C'è un'altra cosa! Quella c'è un'altra cosa! Una cosa! Questa c'è un'altra cosa! Allora! C'è un'altra cosa! Per concludere, sei persone, sei finlandesi, bene in fila, gli altri attorno, gli altri attorno, facciamo il postato, 7-7 è perfetto, dovete avere una persona finlandese, un italiano deve avere un finlandese di fronte a sé e viceversa, ok? Gli altri per favore facciano spazio, in modo che unisciti con gli altri, uno di questi l'altro, ok, ok, mano sul cuore, a hand of your heart, close your eyes, close your eyes and make a deep breath, vedete gli occhi e fate un profondo, 2-3 respira, Da una parte abbiamo il cuore dell'Italia, dall'altra abbiamo il cuore della Finlandia, 2 popolazioni, Unite per creare qualcosa di nuovo, un terzo paradiso, un cuore a cuore, fate dei passi verso l'altro e poi abbracciatevi, e poi abbracciatevi, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso, un applauso. E ora celebriamo con una bella cena.